In occasione della giornata dell'albero parte la campagna social un albero è per porre l'attenzione sull'importanza che il verde riveste nella vita quotidiana. L'iniziativa per fare un albero ci vuole un hashtag è stata lanciata da ConLegno e Lega Ambiente. Ogni 50 post pubblicati nella giornata del 21 novembre su Facebook, Twitter e Instagram utilizzando l'hashtag unalbero è, ConLegno si impegna a donare un albero per dare vita a spazi verdi nelle aree più bisognose d'Italia segnalate da Lega Ambiente. Si tratta di un'occasione per riscoprire le aree verdi del proprio territorio ed imparare a proteggerle. Già da domenica 19 novembre sono partite mille delle 12.000 piantumazioni di alberi previsse a Roma, un'iniziativa provosta dal Movimento 5 Stelle. Entro il 2021 saranno piantati decine di migliaia di nuovi alberi in area pubblica e disponibile nel territorio di Roma. Con il motto Il futuro non si brucia si intende sensibilizzare le persone per tutelare gli alberi, dopo un'estate caratterizzata dal fenomeno degli incendi boschivi, portando alla perdita di centinaia di migliaia di ettari di boschi e foreste. Tante sono le scuole che hanno aderito a questa giornata partecipando ad un concorso fotografico per accogliere immagini del lavoro di piantumazioni di alberi fatto da bambini, ragazzi, insegnanti e genitori. La festa dell'albero nasce per promuovere l'importanza del verde nel contrastare le emissioni di CO2, l'inquinamento dell'aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità e adesso è il momento migliore per agire.